Torna ad attualità la questione del DEA di secondo livello per l'ospedale di Pescara. Oggi c'è stata un'assemblea qui proprio presso la sala biblioteca dell'ospedale civile. Dottor Ciofani, qual è la situazione? Cosa è venuto fuori da questa riunione? Quali sono le prospettive? Abbiamo inasprito le iniziative per far sì che il Dipartimento Emergenza Accettazione, DEA di secondo livello, che è un dipartimento, cioè gruppo di reparti, che si occupa dei pazienti gravi, complessi, politraumatizzati, clidici, critici e multiorgano. Di questo si occupa il DEA di secondo livello. Venga localizzato a Pescara, che lo è de facto, non di diritto, non ha avuto questo riconoscimento dalla regione, dilaniata dalle divisioni da sempre, ma Pescara lo è de facto questo. Tant'è vero che l'80% dei pazienti adulti critici di tutta la regione già si rivolge all'ospedale di Pescara, vengono portati all'ospedale di Pescara e circa il 100% dei pazienti critici, complessi, pediatrici, localmente vengono prestati già oggi a Pescara da anni. Questa situazione de facto noi vogliamo che venga riconosciuta di diritto. e dopo aver preso varie iniziative, convegni, eccetera, la regione Abruzzo negli ultimi anni ha deliberato la condivisione di questo dipartimento con Chieti. Questo non è possibile perché la legge dice che questo gruppo di reparto, ma lo dice la logica, non può che stare unificato in un'unica struttura per dare al paziente grave il massimo delle possibilità di essere salvato e non portato da una parte all'altra. Ecco, in questa situazione noi abbiamo inasprito le richieste e c'è stata una raccolta firme, 606 dipendenti, medici e infermieri soprattutto, dell'ospedale che hanno diffidato tramite un legale, l'avvocato Ciofani, abbiamo diffidato, è stata diffidata la regione Abruzzo a identificare Pescara come idea di secondo livello. Peraltro il Ministero ha già bocciato tre volte negli ultimi due o tre anni soluzioni diverse.